Salve amici del canale e ora vi vorrei mostrare una penna veramente fantastica ad un prezzo molto contenuto è una penna che è realizzata praticamente in resina pregiata molto simile alla celluloide si chiama Leonardo Officina, è un'azienda italiana, vediamo se metto a fuoco, ecco Leonardo Italy e ha il pennino extra fine questa qui, ha un pennino in acciaio e un converter come caricamento per mettergli l'inchiostro la particolarità di questa penna sta nel fatto che è costruita a parte con materiali eccezionali, bella proprio guardate che bella livrea, sembra di stare veramente a mare, tanto è vero che questa si chiama Leonardo Officina Furore come potete vedere è numerata, italiana, vedete che bei dettagli, questa è la 4519, ne hanno fatte molte è una penna eccezionale ragazzi, c'è una livrea unica, chiunque me la vede sbarrano gli occhi e faccio una figura bellissima nonostante questa sia una penna abbastanza contenuta come prezzo veramente gli darei qualche cosa in più, ce la venderei a un prezzo maggiore guardate che particolarità, si apre anche la parte posteriore e potete girare questo qui che è il converter quindi anche questa particolarità, una funzione che serve per farvi immergere il pennino direttamente nell'inchiostro in modo tale che con il pennino non vi andate a sporcare nel senso che se dovete togliere il converter togliete poi il fusto generale della penna insomma vi risparmia molto tempo questa penna veramente scrive con qualsiasi inchiostro e forse la top di gamma qualità prezzo perché scrive veramente in faccia ai muri questa penna non è che abbia provato però vi faccio intendere che questa penna veramente su tutti i tipi di carte non mi ha dato mai tipi di problemi è molto fine, è veramente molto fine il tratto di questa penna è particolarmente bella proprio per la sua livrea come vedete è un azzurro spettacolare da vicino brilla, ha veramente, guardate queste sono le onde del mare e questa si chiama Furure che sarebbe una di quelle città che sono sulla costiera amalfitana e guardate tenere in mano un oggetto del genere vi fa sentire veramente la brezza del mare il pennino è in acciaio, molto bello, l'ho preso dorato ma la fanno anche in colore acciaio conduttore che è in plastica, unica pecca che è in plastica però a questo prezzo non si può trovare quello in ebanita, è difficile trovare una penna a questo prezzo in ebanita questa è plastica ma vi garantisco che è perfetta, è ottima la tengo con me da qualche annetto, guardate il tappo quanto è bello è una clip molto resistente, veramente ha un senso di sicurezza molto bello anche questo fatto della rotellina la cosa bella di questa penna è che a differenza di alcune aziende che non sopportano il fatto che mettano il coso in plastica, diciamo il tappetto in plastica interno dove si vede la plastica, questa ne porge uno che si trova più alla base quindi se voi girate la penna non vi da quel senso di plastica troverete sempre la resina pregiata è una resina eccellente, molto simile alla celluloide cioè se le dovete mettere a confronto celluloide a questa non ve ne rendete conto è qualcosa di unico, ma passiamo alla prova quindi Leonardo Ficina Italiana Furure si chiama bella bella bella, questa fatta è una figura a un prezzo che si trova mi sembra intorno ai 178, 179, una cosa del genere non ricordo perché l'ho comprata da un anno però ve la voglio mostrare anche a 200 euro io la venderei benissimo penna Leonardo questa scrive veramente bene vi garantisco che è un tratto veramente extra fine è un'extra fine rispetto ai patti ecco, cose che molte aziende non fanno non è che le altre siano disoneste ma è una questione che ci vuole anche una certa professionalità nel creare le penne ecco, penna Leonardo Ficina io sono sicuro che quando scrivo con queste vado da una parte e non farò brutta figura questo perché? perché non mi ha mai deluso non ha avuto mai un flusso non regolare è sempre stata puntuale e precisa non ha mai avuto false partenze cioè, lo devo dire questa non ti tradisce sta bene potete mettere tutti i tipi di inchiostri io con questa ho provato l'herbin ho trovato Montecrappa ho provato anche la come si chiama? l'inchiostro Montblanc ho provato veramente tutti i tipi di marchi e anche Leonardo stesso oppure Visconti è veramente guardato incredibile ora sto usando un herbin un colore blu mare profondo anche se non è dei miei preferiti perché mi sembra più un viola visto da vicino non è proprio un blu beh beh, comunque Leonardo Ficina Furore no, no, ma questo cioè, pigiate la penna giusto sulla carta e va però, ovviamente richiede un po' di pressione essendo d'acciaio l'acciaio non è proprio come l'oro ricordiamo che è una lega più dura e questo praticamente fa in modo che sia pure più che strafine il punto ma dovete pigiare un po' in più poi vi farò un video proprio sui pennini perché ragazzi c'è una differenza abissale fra 18 carati 14 carati come oro e 21 carati ma anche di acciai perché molti dicono sì, gli acciai scrivono comunque bene che cosa cioè, perché spendere tutti questi soldi con oro beh, in realtà ci stanno delle differenze però le faremo notare penna scriviamo anche più grande penna molto bella questa non sbaglia un colpo vediamo il flusso ma io sono sicuro che non mi tradisce questa pena quindi posso scrivere quanto mi pare e sono sicuro che il flusso andrà ecco, come infatti la dimostrazione è perfetta cioè, questa non vi darà problemi proviamo inchiostro ottimo su questa penna va benissimo l'herbin proviamo le direzioni ovviamente quando andate da sotto verso su e da sopra verso sotto mi sembra che scrive un po' meglio perché diciamo che gli extra fini tendono un po' a grattare la carta però comunque questa non dà questo problema prova vedete non c'è skipping non c'è niente di non c'è un problema superata queste sono quelle penne che quando voi scrivete avete la garanzia che questa vi eroga il giusto inchiostro e la giusta diciamo tenuta proviamo a calcare un po' insomma questo non è fatto è molto resistente cioè ragazzi questo non è fatto per come dire questo inchiostro non va bene è tutto però il pennino è molto duro veramente sembra il titanio non è molto flessi anzi è pari quasi a zero cioè non c'è molta flessibilità come voi vedete però vi dà la garanzia che la penna scrive ragà guardate cioè posso fare quello che cavolo mi pare cioè questa non ti deluda cioè avete sempre una penna perfetta io non so perché molti nomi blasonati dicono che le penne nostre italiane non siano buone ragà queste guardate a parte una livra così l'avete mai vista in giro no io sinceramente personalmente no è una cosa sembra di avere l'acqua in mano guardate molti dicono perché le penne stilografiche perché le penne di un certo marchio italiana ma che cosa ragazzi noi italiani non siamo secondi a nessuno noi italiani non siamo secondi a nessuno ma guardate qua cioè ma avete capito sembra acqua che se io faccio così mi dà quella sensazione che mi bagna la mano cioè ragazzi è l'eccellenza noi siamo eccellenti siamo artigiani siamo grandi e dobbiamo crescere sempre di più Leonardo è proprio guardate una di quelle aziende che per qualità prezzo fa delle penne mostruose cioè veramente bella bella c'è una bellissima azienda complimenti vi dico che sono anche sincero non è che sto facendo apprezzamenti perché ho qualcuno che conosco non conosco perfettamente nessuno ma vi posso dire una cosa l'apprezzo ma sono molto sincero io sono affezionato a Montegrappa che è un'altra azienda italiana però amo questa come azienda e non è seconda a nessuno per i gusti miei personali amo Montegrappa e uno dice perché c'ha questa bella livra è così bella e perché perché Montegrappa fa delle forme tipo butte non so tipo il vino oppure forme molto particolari che Leonardo ho visto non sia ancora spinta come azienda cioè a fare delle diciamo incisioni precise a livello diciamo proprio di disegni tipo un dragone oppure per dire teschi ecco Montegrappa la fa questa cosa io spero che questi qua della Leonardo crescendo come azienda sempre di più producano anche loro questo tipo di e poi una volta prodotti anche diciamo prodotti artigianali quindi teschi incisi oppure incisioni fatte in argento in oro come vi pare io sarò il primo a mettermi in fila per acquistare qualche penna di questo tipo perché Leonardo è una garanzia cioè vi dico che sono le mie preferite Leonardo e Montegrappa Montegrappa mi piace un po' in più per la fa però questa scrive benissimo cioè non c'è niente da di volete una penna stilografica acquistate Leonardo e voi andrete sul sicuro cioè presa questa secondo me non ne acquistate facilmente qualcun'altra oppure ne acquistate un'altra convinti di andare meglio in realtà meglio di così non si può cioè almeno per questa vi parlo sempre guardate guardate che meraviglia guardate guardate cioè guardate che bella sembra l'acqua in mano raga da prendere Sabine assolutamente da prendere nonostante sia uno stile classico ecco facciamo anche il reverse cioè scrive guardate ultra extra fine amato Raffaele che sono andate a una parte con sta penna sfondata state attenti a non prestarla che ve la rubano allora partiamo Leonardo officina pennino extra fine acciaio furore si chiama questa qui poi fanno anche capri fanno amalfi fanno vari colori molto diciamo proiettati sul diciamo mettere in evidenza paesi della costiera amalfitana e fanno benissimo e che sono uno dei paesi più belli del mondo secondo me noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno ragazzi abbiamo paesi bellissimi penne bellissime aziende mostruose cioè veramente qua stiamo parlando del top del di gamma e questi secondo me devono spingere un po' i prezzi perché per quello che costa sta penna c'è pure 200 euro secondo me ne vale qualcosa in più perché veramente è ottima impugnabilità questo si può anche calzare benissimo guardate come calza bene ma che spettacolo che spettacolo sta fin impugnabilità raga 100 su 100 perché è oltre la perfezione sta penna raga impugnabilità non vi dà delusione è leggera cioè ma c'ha tutto flusso 100 su 100 ha una pagella a pieni puti questa ve lo dico già peso distribuzione 100 su 100 cioè non si può pretendere di meglio clip 100 su 100 cioè anche la clip guardate è proprio resistente da un senso di sicurezza raga eccezionale vista da vicino è molto più bella conduttore ecco qui andiamo su 90 su 100 perché ma non perché non scriva bene perché il conduttore a me piace le banite e personalmente considero le banite il top se questa avesse avuto le banite secondo me io non avrei fermato la mia collezione di penne stilografiche mi sarei fermato a questa avrei venduto le altre perché non mi interessavano più altre penne stilografiche ma in realtà avendo questo conduttore in plastica ragazzi purtroppo mi cade molto il voto perché guardate è una plastica niente di più niente di meno ma poi a questo prezzo che pretendiamo cioè non possiamo pretendere di meglio quindi insomma comunque è un ottimo conduttore fa il suo lavoro feedback ragazzi diamoci 98 perché qualche inchiostro questa scrive con tutti gli inchiostri non vorrei contraddirmi però con qualcuno più fluido qualche volta noto vedete cioè questo va bene l'airbind è difficile da adottare però volte ho notato in alcune direzioni qualcosina che ecco prima la P qui come vedete è un po' più chiara questa è la U un po' più scura però è anche dal tipo di carta 98 è un ottimo voto manutenzione ecco questa necessita poca manutenzione però comunque molto semplice da pulire si toglie anche si gira il quindi 95 su 100 rapporto qualità-prezzo ragazzi cioè mettere 200 su 100 però 100 su 100 cioè anche la scatola è bella cioè la parte esterna sembra le mattonelle di furore proprio inchiostro e carta consegnata tutti tutti inchiostri guarda questa è importante questa è una nota fondamentale fondamentale perché veramente fondamentale scusate sto storto scritto bruttissimo missione ecosostenibili no e a questo prezzo quale missione ecosostenibile che fanno pure questo non regalano i soldi alle versione purtroppo no perché questa è un'azienda che ho notato non lo so non è che ho notato per cui sta bene ho acquistato non mandano soldi a associazioni per aiutare animali bambini e cose quindi non possiamo pretendere che a questo prezzo tipo 170 e passa che questi mandano soldi assolutamente no perché la penna ha un costo ed è giusto che guadagni questa azienda e poi vabbè clip 100 su 100 anche questa funziona molto bene la metto ovunque mi dà un senso di sicurezza e sto sicuro che non non si rovina ragazzi è una penna da acquistare perché queste se le trovate ora prendetele come siano fa molti colori ne ho anche qualcun'altra poi vi farò vedere una verde che mi è stata regalata da uno squisito amico di Napoli che ha appunto un negozio di penne e raga compratela guardate che bella grazie per aver visto il video e vi farò vedere delle penne dell'incredibile guardate veramente grazie